Aumento delle domande di disoccupazione, una maggiore richiesta di cassa integrazione. La fotografia scattata dall'Inps è quella di un paese alle prese con forti problemi occupazionali per i quali i fondi a disposizione non sono sufficienti. Per questo motivo il deputato della Lega Nord Massimiliano Fedriga ha chiesto al Ministro Giovannini in che modo e in quali tempi intenda reperire le risorse necessarie a rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Noi abbiamo chiesto gli intendimenti del Governo in relazione anche al discorso di insediamento che ha fatto il Presidente Letta riguardo gli ammortizzatori sociali in deroga. Voglio ricordare che gli ammortizzatori sociali in deroga sono quelle tutele necessarie in questo momento di recessione economica che vanno a salvaguardare anche i lavoratori di quelle aziende che non sono ricomprese all'interno della cassa integrazione e guadagni ordinaria. Il problema attuale è che manca all'incirca 1 miliardo e 400 milioni per andare a coprire tutte le necessità del Paese. Per questo nel Question Time chiederemo al Governo quale tipi di interventi intenda fare e soprattutto i tempi e i modi per reperire le risorse. In questo momento serve investire per salvaguardare i cittadini ed evitare stati di emergenza sociale che aggraverebbero ancora di più la crisi economica che stanno vivendo le nostre famiglie.